Venerdì della seconda settimana di avvento, anno liturgico, rito antico, lettura del profeta Esaia. Ecco che il Signore spacca la terra, la squarcia e ne sconvolge la superficie e ne disperde gli abitanti. Avverrà lo stesso al popolo come al sacerdote, allo schiavo come al suo padrone, alla schiava come alla sua padrona, al compratore come al venditore, al creditore come al debitore, a chi riceve come a chi dà in prestito. Sarà tutta spaccata la terra, sarà tutta saccheggiata perché il Signore ha pronunziato questa parola. È in lutto, languisce la terra, è squallido, languisce il mondo, il cielo con la terra perisce. La terra è stata profanata dai suoi abitanti perché hanno trasgredito le leggi, hanno disobbedito al decreto, hanno infranto l'alleanza eterna. Per questo la maledizione divora la terra, i suoi abitanti ne scontano la pena, per questo sono bruciati gli abitanti della terra e sono rimasti solo pochi uomini. Lugubre è il mosto, la vigna languisce, gemono tutti. È cessata la gioia dei timpani, è finito il chiasso dei gaudenti, è cessata la gioia della cetra. Non si beve più il vino tra i canti, la bevanda inebriante e amara per chi la beve. È distrutta la città del caos, è chiuso l'ingresso di ogni casa. Per le strade si lamentano perché non c'è vino. Ogni gioia è scomparsa. Se n'è andata la letizia dal paese. Nella città è rimasta la desolazione. La porta è stata abbattuta, fatta a pezzi. Perché così accadrà nel centro della terra, in mezzo ai popoli, come quando si bacchiano le olive, come quando si raccimola, finite la vendemmia. Quelli alzeranno la voce, acclameranno la maestà del Signore. Gridano dal mare, acclamate pertanto, popoli. Voi in Oriente glorificate il Signore, nelle isole del mare. Il nome del Signore, Dio di Israele. Dagli angoli estremi della terra abbiamo udito il canto, gloria al giusto. Così era desolata la terra il giorno in cui il Messia venne a liberarla e a salvarla. Le verità erano tanto scemate tra i figli degli uomini, che il genere umano andava verso la rovina. La conoscenza del vero Dio si andava oscurando sempre più. L'idolatria vinceva tutta la creazione negli oggetti del suo culto adultero. Una morale orribile era la conseguenza di una religione tanto grossolana. L'uomo era continuamente armato contro l'uomo e l'ordine sociale non aveva altre garanzie che la schiavitù e lo sterminio. In mezzo a tanti popoli si riusciva fatica a trovare degli uomini che cercassero Dio. Questi erano rari sulla terra, come le olive dimenticate sull'albero dopo la raccolta, come i grappoli che il vendemmiatore lascia sul ceppo. Così furono nel giudaismo quei veri israeliti che il Salvatore prese come discepoli e così, nella gentilità, i magi che vennero dall'Oriente a chiedere del re che era nato e più tardi il centurione Cornelio che l'angelo del Signore mandò da San Pietro. Ma con quanta fedeltà e quanta gioia riconobbero il Dio incarnato! Quali gride di Letizia fecero esplodere allorché conobbero che erano stati riservati per vedere con i propri occhi il Salvatore promesso. Ora tutto ciò si all'avvicinarsi dei giorni in cui il Messia dovrà riapparire. La terra sarà nuovamente desolata, la razza umana nuovamente prostrata. Gli uomini corromperanno ancora le proprie vie e con una malizia tanto maggiore in quanto il Verbo Divino sarà apparso ai loro occhi. Tuttavia una grande tristezza, un'impotenza di vivere colpirà le genti. Esse si sentiranno invecchiare con la terra che le porta e non immagineranno nemmeno che i destini del mondo stiano per compirsi. Vi saranno dei gravi scandali. Le stelle del cielo, cioè parecchi di quelli che erano dottori in Israele, mancheranno e la loro luce si cambierà in tenebre. Vi saranno dei giorni di prova e la fede diminuirà di modo che, al momento in cui il figlio dell'uomo apparirà, farà fatica a trovarne ancora sulla terra. Guardaci, o Signore, dal trovarci in quei giorni di tentazione, oppure fortifica nei nostri cuori la docilità verso la tua Santa Chiesa, che sarà l'unico faro per i tuoi fedeli in mezzo a quella terribile defezione. Concedici, o Salvatore, di essere del numero di quelle olive scelte, di quei grappoli prediletti con i quali completerai la felice raccolta che deve riempire le tue dispense per l'eternità. Conserva in noi il deposito della fede che tu stesso vi hai posto, che il contatto delle novità non lo alteri, che il nostro occhio sia sempre fisso verso quell'oriente che ci indica la Santa Chiesa e in cui apparirai improvvisamente pieno di gloria. Alla vista del tuo trionfo manderemo grida di gioia e presto, simili ad aquile che si radunano attorno alla preda, saremo rapiti tra le nuvole per andare incontro al Signore nell'aria, come dice il tuo Apostolo. E così saremo sempre con il Signore. E allora che si sentirà risonare la gloria del giusto fino agli estremi confini di questa terra, che vorrai conservare finché i decreti della tua misericordia e quelli della tua giustizia avranno avuto piena esecuzione. O Gesù, salva l'opera delle tue mani e sii a noi propizio in quel grande giorno.